Smascherata dalla Guardia di Finanza una maxifrode carosello nel settore della compravendita tra società fantasma di automobili e macchine agricole per evadere così il fisco. A metterla in piedi un imprenditore parmese che assieme al suo socio, un professionista retino, si sarebbe avvalso di otto società create ad hoc e di numerosi soggetti compiacenti utilizzati come testa di legno. L'indagine, coordinata dal procuratore Roberto Rossi, ha infatti permesso di individuare numerose operazioni fittizie di compravendita per un valore d'affari di milioni di euro con l'evasione di IVA per oltre un milione e tre ed oltre centomila euro di imposta sul reddito delle società non versata. Nello specifico, i finanzieri hanno accertato che gli indagati tra il 2015 e il 2018 avrebbero acquistato un'importante partita di trattori e auto di grossa cilindrata, il regime di non imponibilità IVA grazie a false dichiarazioni di intento. Subito dopo l'acquisto, i mezzi sono passati ad una delle società dell'organizzazione che avrebbe poi immediatamente cessato l'attività dando così avvio ad una girandola di cessioni in fragruppo ben 14 in poco più di un anno. In questo modo le imprese acquirenti avrebbero beneficiato ed ingenti quanto falsi creditiva nei confronti dell'erario, mentre le imprese cedenti amministrate da prestanome hanno messo gli adempimenti fiscali e i versamenti delle imposte a debito per poi chiudere l'attività definitivamente in modo da far perdere le tracce al fisco. All'esito delle attività investigative, il GIP del Tribunale di Arezzo ha emesso un decreto di sequestro preventivo per un valore di 1.428.000 euro su disponibilità liquide, beni mobili, immobili e quote societarie nei confronti del dominus della frode, delle società coinvolte e delle varie teste di legno.